La neve caduta in certe zone sta ancora cadendo copiosa su buona parte del Cesenate e del Forlivese oltre che in altre parti della Romagna. Come previsto infatti l'ondata di maltempo dopo aver imperversato nelle scorse 48 ore sulla costa adriatica e in particolare nel Riminese si sta gradatamente spostando verso l'entroterra. Le precipitazioni nevose hanno provocato forti difficoltà al traffico. I vari piani neve predisposti dall'amministrazione comunale stanno lavorando a pieno regime con spazzaneve e spargisale ma nelle zone dove la neve è caduta e dove continua a cadere si viaggia a passo duomo. Con l'arrivo del buio e il conseguente abbassamento delle temperature l'insidio al gaccio si fa poi estremamente pericolosa. Occorre perciò guidare con estrema prudenza e mettersi al volante solo in caso di urgente e inevitabile necessità. Il comune di Rimini come già fatto dal comune di Misano mentre altre amministrazioni locali stanno valutando il da farsi ha deciso per domani la chiusura di tutte le scuole. Una decisione assunta sulla base dell'allerta del servizio meteo della protezione civile della regione Emilia Romagna che prevede fino attorno alle 12 di domenica 19 dicembre precipitazioni nevose con accumuli fino a 20 centimetri e temperature fino a meno 12 gradi. Condizioni meteo che potrebbero portare nelle prossime ore nonostante il prodigarsi di chi cerca di mantenere praticabili le strade ad una semiparalisi del traffico automobilistico in buona parte della Romagna.